E' una cosa che ho detto sempre, ho detto, dicevo sempre mamma vedi che se in tal caso mi succede qualcosa, non esitare a farmi togliere gli organi, tutto quello che possono togliere, non guardare niente. E lei mi rispondeva tu sei pazzo, ma così devi dire, ma che dici? Mamma non mi servo niente al caso. Poi forse le è andata a far rinnovare la tessera e nella tessera ha dato il benestare a dare gli organi pure lei. Quindi questa era una cosa che voi come famiglia avevate già deciso? Parla così oggi al nostro telegiornale Gianfranco Fauci, uno dei figli della signora Anna, la 66enne saccense morta per aneurisma cerebrale all'ospedale civico di Palermo e cui i familiari hanno confermato l'intenzione che già la stessa donna aveva manifestato nel rinnovo della sua carta d'identità di donare i propri organi. Ci racconta quando i medici vi hanno parlato di questa opportunità a quel punto? Si può dire che siamo andati là forse per un progetto divino perché siamo partiti già da sciacca con zero possibilità, si può dire vicino allo zero le possibilità che mia mamma sarebbe sopravvissuta. Subito arrivati là già c'è uno parlato di qualcosa però sempre devo dire che abbiamo trovato bravissimi dottori umani nel parlare. Figurati che fino a ieri ci sono andato e piangevano pure loro. Abbiamo trovato anche qua a sciacca, colgo l'occasione per ringraziarli, il 118. Sono stati bravissimi, sono arrivati subito, subito hanno capito l'entità del problema. Ci racconti quando i medici, avete parlato con i medici dando il via libera diciamo definitivo all'espianto degli organi di tua moglie, ci racconti questo momento? Si, noi eravamo tutti noi di fronte ai medici allora loro erano già convinti i miei figli però io ancora sono stannato. Non eri in grado ancora di connettere? Non eri in grado di connettere ancora di dire sì va bene infatti al medico ci ha detto una frase così, ci ha detto che dobbiamo smantellare? Ci non dica queste cose, non è che la mia è smantellata. E poi ho capito l'importanza del valore degli organi di mia moglie che hanno tutto il cuore, il fegato, il rene, le corne che sono andate a finire a Mestre, proprio alla banca di Mestre. Quindi già sapete che c'è stata una destinazione degli organi di occhi? Delle corne, sì, del cuore ci hanno detto che rimarrà in Sicilia ma non sappiamo dove andrà. Però siamo contenti che abbiamo donato qualcosa a qualcuno che ricomincia a vivere, magari c'è il cuore che mi è messo in un fondo del letto che sta per morire e allora rivive di nuovo. Anche per le persone che vanno in dialisi, che non possono vivere, con due rene, ne possono salvare due persone, perché uno anche con un rene può vivere pure. La figlia di Anna Fauci, Giussi, che ieri aveva pubblicato un post sulla sua pagina Facebook con l'ultimo saluto alla madre, ha ribadito l'importanza della donazione. Inizialmente la disperazione profonda perché ti crolla non il mondo, l'universo addosso. Perché ero qua con lei sul divano quando ha iniziato a sentirsi male e ho capito subito l'entità del danno. Inizialmente pensavo a un ictus, a un ischemia o anche di stacco di retina perché lei cominciava a dire non ci vedo, non ci vedo, non ci vedo. Io mi occupo di altro, non sono un medico, però ho capito subito che mia madre aveva bisogno immediato di un controllo. Il trasferimento a Palermo è avvenuto subito? No, è arrivato dopo un paio di ore. Siamo arrivati a Palermo alle due di notte. Mia madre già aveva un quadro clinico con una sola prognosi, che era la morte. Grazie a mia mamma oggi possono tornare alla vita altre quattro persone o una o due persone potranno rivedere di nuovo la luce del sole. Le abbiamo vissute, noi le abbiamo vissute assieme ad altre persone, che ci sono troppe persone che alla fine sono dichiarate morte così celebrali. E' un'altra possibilità anche per mia mamma di vivere in un altro corpo. L'unica cosa che abbiamo potuto fare è questo. Lei lo voleva, noi non lo sapevamo che lei lo voleva, ma già ci eravamo portati avanti per fare tutto ciò. Poi sapendo che lei aveva, era la sua volontà diciamo, ci siamo rasserenati anche noi. Per i funerali eventuali effetti in denaro saranno destinate dalla famiglia Fauci e la ricerca scientifica. E daremo questi soldi a una soffondazione, che ancora non abbiamo identificato, ma che identificheremo e faremo beneficenza e cercheremo di aiutare il prossimo. Rispetto a questa grande generosità, perché sembra una cosa scontata ma non lo è, qual è l'appello che ti senti di formulare a chi ci sta ascoltando? Il mio appello è quello di essere generosi nella vita, di pensare agli altri. Perché se per mia madre non c'è stata speranza, il cuore di mia madre, i reni, i polmoni, qualsiasi tipo di organo che si può donare, che venga donato. Perché se non c'è speranza per il nostro congiunto, ci deve essere speranza per i parenti, per i figli, per i nipoti, per il padre, per la madre di qualcun altro. E mia madre ha dato la speranza a loro. Tua moglie aveva 66 anni, avrebbe potuto vivere ancora. E capisco che questo è difficile da accettare. Ecco, però voi in questa cosa è possibile dire che state trovando la forza di andare avanti? Eh, stiamo cercando con tutte le forze noi di andare avanti perché, vedi, per adesso c'è tutti qua vicini, i miei figli, però il problema, sai, quando la sera se ne vanno a casa loro, allora chiudi la porta e rimane da solo, ti guardi in giro così. E' sempre una mina vagante, sai, dovrei girare sempre confuso. Questo è il problema, però il massaggio che noi diamo a chi è che può di donare e far rivivere altre vite. Che la vita continua e continua per tutti.